Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. Siamo alle solite. Ancora una volta, come avviene da tempo, si torna a parlare della chiusura dell'ospedale di Cava dei Tirreni. Esordiscono così i membri dell'associazione Cava 5 Stelle Libro Bianco, i quali, in una nota stampa diffusa due giorni fa, hanno espresso non solo il loro disappunto sull'operato e sull'attenzione che è stata riservata fino ad ora dagli organi competenti al nosocomio metelliano, ma sottolineano anche che già cinque anni fa era stata proposta proprio dall'associazione Cava 5 Stelle Libro Bianco la soluzione definitiva del problema sanità a Cava, ovvero quella di ritornare nell'ambito dell'ASL Salerno e la contestuale creazione di una piattaforma di stabilizzazione medica e chirurgica. Oggi, si legge nella nota, ci si accorge di quello che dicevamo cinque anni fa. Siete dei clown, dei clown della politica. Riuscite, con la vostra abilità di trasformismo, a stupire tutti noi cittadini di Cava dei Tirreni. Ma la situazione attuale certamente può essere considerata peggiore, ma non tanto diversa da quella che conoscevamo prima e per cui abbiamo ritenuto opportuno come Cava 5 Stelle Libro Bianco parte del progetto interassociativo Cava Sanità 2.0 di presentare la richiesta, ma questo noi stiamo parlando del 2015, dal 2015 al Sindaco Caldi, dal 2016 al Sindaco Servalli, la richiesta dell'istituzione di un tavolo tecnico che includesse anche la regione per poter valutare la costituzione di, a Cava dei Tirreni, l'istituzione di una piattaforma di emergenza e stabilizzazione medica e chirurgica che ponesse quantomeno rimedio a quella che è la reale problematica e quindi il trattamento delle emergenze mediche e chirurgiche, non dimenticando che il nostro distretto 63, quindi l'ospedale di Cava, è referente non solo per Cava dei Tirreni, è il plesso di referenza per la costiera amalfitana, quindi noi siamo stabilmente 94.000 persone, ma la popolazione del nostro distretto 63 viaggia in estate tra le 250.000 e le 300.000 unità. E a tal proposito non è mancata la risposta del primo cittadino di Cava, Vincenzo Servalli, che ha commentato così. La nota dei 5 stelle, al di là degli insulti, è la dimostrazione dell'ottusa riproposizione di una tesi che, se realizzata, avrebbe determinato la chiusura del presidio cavese. Il ritorno all'ASL tanto predicato rappresenterebbe un grave errore, un suicidio che non consentiremo. Pronta la replica del movimento Cava 5 Stelle Libro Bianco. Quindi quello che voglio dire è che la responsabilità del sindaco Servalli, nel momento in cui dice che questo progetto corrisponderebbe, ed il passaggio ovvio nell'alveo naturale dell'ASL Salerno, corrisponderebbe al suicidio del presidio cavese. È una bella responsabilità quello che si prende Servalli. La sua è un'opinione. Noi stiamo parlando dei fatti e i fatti ci dimostrano lo sfacelo del nostro plesso ospedaliero. I dipendenti, gli operatori della sanità che operano all'ospedale di Cava dei Tirreni sono veramente degli eroi. La responsabilità del sindaco Servalli in questa situazione è grande. Noi non stiamo parlando del fatto che a Cava non venga garantita l'emergenza. Noi stiamo parlando di un nuovo progetto di gestione dell'emergenza nel distretto 63 dell'ASL Salerno. Noi ad oggi siamo ancora e siamo solamente un distaccamento dell'ospedale San Leonardo. Nel momento in cui l'ospedale San Leonardo decidesse che di Cava non ha più necessità noi rimarremmo un ramo morto. La piattaforma di emergenza e stabilizzazione è qualcosa di molto più complesso di quello di cui parlano Biondino e il sindaco Servalli che purtroppo non essendo medico può parlare molto poco di queste cose. Ma quello che mi piace dire è che il nostro progetto nell'ambito di una ristrutturazione anche ospedaliera è semplice, è gratuito. Perché se Cava fosse riconosciuto, punto Spock, per esempio dell'infarto del miocardio, punto Spock della traumatologia, noi avremmo la ristrutturazione gratuitamente potendo accedere ai fondi europei per la creazione dell'emergenza ospedaliera che al momento non esiste in Campania ed è partita, guarda caso, da Napoli. Inoltre mi piace ricordare una cosa a termine della nostra intervista. A Cava c'è stata, dobbiamo ringraziare come Cava Sanità 2.0, Enrico Alfano, il coordinatore del PSI Cavese, il quale ha creduto nel nostro progetto, ha sposato la nostra idea e si è fatto l'atore dello stesso presso le varie forze politiche componenti del Consiglio Comunale. Intanto, dall'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e a Ruggi d'Aragona di Salerno, fanno sapere che nel corso dell'incontro tra il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Longo, è stato fatto il punto su tutti gli obiettivi aziendali che a breve termine saranno realizzati. In particolare, per l'ospedale di Cava dei Tirreni saranno a breve programmati lavori di ristrutturazione del pronto soccorso, della rianimazione e della radiologia.